Ciao a tutti, nel video di oggi Leo passa una tranquilla giornata in compagnia delle zie e della nonna, visitando il museo di storia naturale e pranzando con loro. Vi lascio al video, buona visione. Un patato coraggiosissimo che si guarda il t-rex senza dire niente. Che coraggio, vieni qua amore. Sì, sì, è questo orangolo, orangolo, ma c'è paura dell'opterodattilo, no, è l'opterodattilo. Ciao ragazzi, oggi è stato un giorno pieno e non ho mai stato sul telefono tutto il giorno. Ho stato con questo ragazzo, e ora faccio vedere cosa abbiamo fatto tutto il giorno. Ciao a tutti.